Arriva il valzerino, si riparte subito la grande e arriva questo autobiografico, l'uccellino, vai maestro! E' autobiografico perché il nostro Fabio Arzese è rinomato come uccellino sul soprannome, secondo noi. Chi di voi ha visto l'uccellino oggi? Fabio! Tu l'hai visto, Serena? Papà! Fai a Fabio! Fai a Fabio! Fai a Fabio! Eccolo qui, in splendida forma, Fabio Arzese! Chi non ha visto l'uccellino una volta della vita? Perché guardi me? Chi non ha visto l'uccellino? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.